L'Istituto Alberghiero di Gela, attraverso insegnamenti teorici e pratici, si propone di realizzare la formazione di giovani da inserire immediatamente nel mondo del lavoro attraverso un diploma statale. Il percorso di studi che la scuola propone è costituito da un biennio di area comune, di indirizzo comune e successivamente, alla fine del secondo anno, i giovani hanno la possibilità di scegliere un indirizzo, uno dei tre indirizzi da noi proposti, l'indirizzo di enogastronomia, di sale e vendita e accoglienza turistica. A conclusione del terzo anno viene rilasciata la qualifica, una qualifica regionale, poiché l'Istituto è accreditato dalla Regione per il rilascio della qualifica. E poi si prosegue con il quarto e il quinto anno, sempre seguendo l'indirizzo scelto al terzo anno. Si conclude con il diploma statale e quindi la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Una importanza notevole è data anche all'alternanza scuola-lavoro, perché la scuola organizza, è obbligatoria intanto nel percorso di formazione per i nostri ragazzi, e organizza attività di stage presso strutture alberghiere nel settore di alberghi e ristorazione a livello nazionale ma anche internazionale. I progetti che noi realizziamo sono molteplici, tra questi ricordiamo il progetto Erasmus, i progetti sull'educazione alla salute, anche progetti legati al territorio, di sicurezza, di volontariato e così via. L'alberghiero di Gela già dall'anno scorso ha partecipato al progetto Erasmus insieme ad altre scuole, quindi in partenariato, sono partite delle ragazze sia del commerciale che dell'alberghiero e sono andate a Derri per la lingua inglese e a Bordeaux per il francese. Si tratta di un progetto di alternanza scuola-lavoro e quindi i ragazzi hanno frequentato una settimana di corso linguistico sia di francese che di inglese e poi le restanti quattro settimane hanno lavorato in delle aziende, in delle strutture che prevedevano il loro indirizzo professionale, e per esempio l'accoglienza, quindi come guide turistiche, in ristoranti e così via. Anche quest'anno, come gli anni passati, ci accingiamo ad arrivare alla stagione estiva con l'alternanza scuola-lavoro, nonché il fiore all'occhiello della nostra scuola. Sono appena ritornato da Milano proprio in questi giorni perché ho chiuso due grosse convenzioni con due grossi tour operator e grazie a queste convenzioni noi oggi possiamo contare circa 80 alunni che lavorano in grossi prestigiosi tour operator a livello mondiale. Quindi continuiamo la nostra esperienza cercando di offrire opportunità di lavoro ai nostri alunni che poi diciamo che è il nostro obiettivo finale. Chiuso a fare la seconda scuola-lavoro è molto importante per il futuro di vita. Oggi stiamo introducendo la scuola-lavoro e la scuola-lavoro e la scuola-lavoro e vorremmo dire alcune parole in inglese per farvi capire le importanti foreign linguagisti in our school. It's very interesting school based on strong cultural scientific element but also founded on a vocational basis according to the European Union indication. The specific subject are hotel management, kitchen management, bar and the restaurant management. Foreign linguagists we are studying English and French. Oggi elegire la scuola superior è una cosa molto importante per la tua vita e per il futuro. Noi presentiamo la nostra scuola che si dedica soprattutto all'hostaleria e restaurazione. E anche diamo molta importanza ai studi di lingua extranjera come inglese e francese. La fondamentale importanza si dà al progetto di formazione alterna, scuola-trabajo, dove i giovani possono experimentare con le nostre mani le realità di lavoro in nostra area. Nostro plan di studio si basa in una formazione di 5 anni. Il vienio è comune a tutte le direcciole. Dopo, hanno preferito il settore che preferite. Direzione di hotel, gestione di bar e restaurante e cucina. Il tuo futuro è l'Istituto Alberghiero. E attenziamo!